Salve a tutti, volevo farvi vedere oggi una radio della Telefunke in italiana, si chiama Mignonette B Serie Giubileo, prodotta nel 1953 appunto per i 50 anni della Telefunke, che è una radio a 5 valvole, poteva prendere onde medie più 2 onde corte, la selezione veniva attraverso anche questo polmello, immobile in legno e in plastica il frontalino. Io ho trovato in un mercatino il valore medio-basso di questa radio, perché ce ne sono tante, di facile reperibilità. Comunque un bell'oggetto, è considerato una radio da comodino per le sue dimensioni. Il primo anno, cioè nel 1953, questa radio costava 29.000 lire, era un'esagerazione. Smontarle è semplice, si trovano i tre pomelli, che sono a estrazione e non a vite, poi si apre la parte posteriore, si sblocca il telaio e si può estrarre. Funziona a 220 volt. Ricordatevi sempre, quando smontate una radio, di fare una foto prima, così non vi perdete quando dovete rimontarla. Questa radio non l'ho restaurata, perché è funzionante e va bene, così com'è, praticamente non l'ho toccata. Vi saluto a tutti e vi do appuntamento alla prossima radio. Grazie mille! Weissbessata! No! Grazie mille! Grazie a tutti.